Manutenzione e cura. Il cibo per cani di buona qualità, adatto all'età del cane e adatto alle razze di taglia grande, deve contenere tutti i nutrienti di cui il levriero irlandese ha bisogno. A causa del rischio di gonfiore, l'esercizio prima o dopo l'alimentazione non è raccomandato. Rivolgiti all'allevatore e al veterinario del tuo cane, se hai domande o dubbi sul peso, le condizioni o il programma di alimentazione del tuo cane. I levrieri irlandesi hanno un doppio mantello costituito da un pelo esterno rigido e un sottopelo morbido. Muoiono tutto l'anno, ma non eccessivamente. Una spazzolatura accurata una volta alla settimana ti aiuterà a rimuovere lo sporco e i peli sciolti e a mantenere il tuo cane al meglio. A differenza di molte razze a doppio rivestimento, i levrieri irlandesi non soffiano i loro cappotti durante la stagione annuale o semestrale della muta. Come per tutte le razze, le unghie devono essere tagliate regolarmente, poiché le unghie troppo lunghe possono ferire il cane e causare problemi quando si cammina e si corre. I levrieri hanno bisogno di esercizio per tutta la vita. Poiché mantengono un forte istinto di cacciare e inseguire la preda, dovrebbero essere rilasciati solo in aree recintate in modo sicuro, ed eventuali passeggiate dovrebbero essere effettuate al guinzaglio. Da adulti, i cani lupo irlandesi possono diventare barboni se consentito, ma un regolare esercizio fisico, come lunghe passeggiate o giochi, li aiuterà a mantenerli fisicamente e mentalmente sani. Una casa con un'area recintata abbastanza ampia è necessaria per fornire un ambiente in cui possano prosperare. La razza può anche allenare la mente e il corpo partecipando a sport canini come il trekking, l'agilità e il coursing. I cuccioli di Wolfound impiegano 18 mesi o più per maturare. I cuccioli dovrebbero avere un ragionevole accesso al gioco libero in base all'età, ma non con cani anziani, e senza esercizio forzato. Si raccomandano corsi di socializzazione precoce e addestramento dei cuccioli, utilizzando solo metodi di addestramento positivi. Grazie alla loro intelligenza, i levrieri irlandesi imparano velocemente. I Wolfound bramano la compagnia della loro gente, e la loro sensibilità verso gli umani li rende ottimi candidati per il lavoro terapeutico. Bello, mentre accarezzi, spaventoso quando tocchi, così si dice spesso del cane lupo. È amichevole e affettuoso con la sua famiglia. Il levriero irlandese non è la scelta migliore per un normale appartamento di città, perché ha bisogno di molto spazio per poter allungare facilmente le sue lunghe gambe. È indipendente e autosufficiente, fin da cucciolo, deve sentire la mano ferma del padrone e seguire il necessario percorso di formazione, ha bisogno di molto cibo e di particolari esercizi motori. Si arrabbia solo quando viene attaccato. È un errore pensare che il cane lupo irlandese possa essere usato come cane da guardia o da servizio. Per questo, non è adatto in tutta la sua essenza. Gli allevatori inglesi hanno passato decenni a cercare di trasformare il cane lupo irlandese in un mite cane da compagnia, che comunque non mancherebbe di attenzione e stile. Levriero irlandese ispira il dovuto rispetto solo per l'esterno, e per le dimensioni. I futuri proprietari di levrieri irlandesi dovrebbero essere consapevoli che la loro aspettativa di vita media, con tutte le cure diligenti e attente, è molto inferiore a quella delle razze di levrieri più piccole. Otto anni è il loro limite di età. È la razza nazionale di cane da caccia dell'Irlanda. Il levriero irlandese è tradizionalmente un cane da caccia e da combattimento, capace di agire con qualsiasi condizione atmosferica e su qualsiasi terreno sfavorevole o tra una fitta vegetazione. Tra i cani da caccia dei secoli passati, era considerato il cane più prezioso e richiesto, non solo per la sua abilità nella caccia, ma anche perché era un custode e un compagno insolitamente fedele dell'uomo. Una volta che il cane lupo nella battaglia ha accompagnato il leader, gli è stato richiesto di partecipare direttamente alla battaglia. Doveva afferrare il guerriero e trascinarlo a terra da cavallo. Il posente cane è degno di menzione nella mitologia irlandese e nelle antiche saghe eroiche. Nelle gesta eroiche dei capi tribù celtiche, le numerose azioni coraggiose dei loro enormi cani prendono il posto che spetta loro. Questi costanti compagni e guardie del corpo non venivano tenuti come tutti i cani normali, venivano nutriti dalla loro tavola e messi a dormire accanto a loro. Durante la caccia, il cane lupo irlandese è stato portato su un lupo, un orso, un cervo, un alce e un cinghiale, che erano in abbondanza in quel momento. Inoltre, secondo le immagini che ci sono pervenute, l'inseguimento e l'inseguimento della selvaggina veniva effettuato da segugi e cani di grossa taglia come il cane di Esti. Selvaggina? È noto che i romani, durante la conquista delle isole britanniche, scoprirono cani straordinariamente grandi. Il console romano Quinzio Aurelio Summachio nel 391 ringraziò suo fratello, che si trovava in Britannia, per aver inviato questi sette cani. Li ha mostrati nell'arena del circo, e ha stupito tutta Roma. Più tardi, i grandi cani irlandesi furono un dono gradito e nobile per principi e re. Dopo che la casa reale inglese estese il suo dominio in Irlanda dal XII secolo, molti levrieri irlandesi furono portati via dalla loro patria per esigenze personali, e, inoltre, furono donati ai nobili di tutta Europa. A causa dell'esportazione sfrenata di questi cani nel XVI secolo, il numero di questa razza nella sua patria è diminuito drasticamente. Ma anche il divieto di esportazione imposto nel 1652 da Oliver Crombell, allora governatore generale dell'Irlanda, non riuscì più a impedire l'estinzione del canelupo irlandese. Insieme allo sterminio dei lupi in Irlanda tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, la famosa razza irlandese terminò. Nel XVIII secolo il levriero irlandese era menzionato nelle scienze naturali solo con la dicitura animale raro. Nell'ultimo terzo del XIX secolo, il levriero irlandese fu ricostruito quasi da zero. Il capitano Graham è entrato negli annali della razza come la persona a cui il moderno canelupo deve la sua esistenza. Supportato da molti altri allevatori durante vent'anni di lavoro sperimentale, ha incrociato gli ultimi cani lupo di razza trovati con altre razze di grandi dimensioni. Il portatore principale era il levriero, strettamente imparentato, ma prese anche parte alla creazione dell'alano, del segugio russo e del cane dei Pirenei. I loro discendenti selezionati formavano gli antenati del moderno canelupo irlandese, un riflesso molto fedele dell'antico gigante irlandese, le cui caratteristiche servivano da modello per la riproduzione. Nel 1885 fu fondato in Inghilterra l'Irish Wolf Own Club e fu stabilito uno standard. Nel 1925 fu organizzato un club nella stessa Irlanda. Il moderno levriero irlandese ha anche un istinto di caccia e il desiderio di inseguire. Ciò fu confermato pubblicamente quando, all'inizio del 1900, un levriero irlandese fuggì davanti a rappresentanti del Kennel Club inglese, dove cacciava una lepre viva. Da allora, i levrieri irlandesi sono stati classificati come cani sportivi e riconosciuti come levrieri, anche se i gestori di cani considerano più corretto il termine levriero. Durante entrambe le guerre mondiali, l'allevamento dei levrieri irlandesi fu nuovamente minacciato, poiché le difficoltà alimentari dell'epoca colpirono particolarmente le razze di grossa taglia. Questo è un cane molto grande. L'altezza e i peso minimi dovrebbero essere 79 centimetri e 54 chilogrammi per i maschi, 71 centimetri e 40,5 chilogrammi per le femmine. Tutti gli animali condati al di sotto di questi parametri sono severamente respinti. Una grande crescita, compresa l'altezza della spalla e la lunghezza del corpo proporzionale sono un obiettivo caro ed è desiderabile fissare una razza in cui l'altezza media dei maschi raggiunga 81 all'86 centimetri e avrebbero la forza, l'attività, il coraggio e la proporzionalità necessarie il fisico. La testa è allungata, il cranio non è molto largo. Il passaggio dalla fronte al muso è chiaramente definito. Il muso è lungo, moderatamente appuntito. Gli occhi sono ovali, scuri, con sopracciglia sporgenti. Le orecchie sono piccole, distese a forma di rosa. Il collo è piuttosto lungo, molto forte e muscoloso, ben arcuato, senza pieghe o cedimenti alla gola. La gabbia toracica è molto profonda e larga. Il dorso è piuttosto lungo che corto, la coscia è prominente, l'addome è ben retratto. La coda è lunga, di spessore moderato, generalmente cadente, con una leggera curvatura, e una fitta giogaia. Il pelo è ruvido e ruvido sul tronco, sugli arti e sulla testa, particolarmente duro sopra gli occhi e sulla mascella inferiore, e chimosi. Il colore è grigio, rosso con sfumature, nero, bianco puro, maculato e qualsiasi altro colore riscontrato nel levriero. Punti salienti e fatti interessanti. I levrieri irlandesi sono indicati in modo intercambiabile come cani irlandesi, cani grandi d'Irlanda, levrieri o levrieri d'Irlanda, cani lupo d'Irlanda e cani grandi d'Irlanda. Levriero irlandese è un nome più moderno. Nel 391 dici levriero irlandese era conosciuto a Roma, quando la prima menzione attendibile fu scritta dal console romano V Aurelio, che ne ricevette in dono VII, che tutta Roma guardò con stupore. Nonostante le sue dimensioni intimidatorie, il suo carattere, e il suo temperamento, è completamente inadatto come cane da guardia o da pattuglia. L'infanzia di un cucciolo di cane lupo dura un anno, o più e il cucciolo di un cane lupo può pesare circa 45 kg. L'Irish Wolfound era apprezzato per la sua abilità nella caccia, specialmente nella sua ricerca del lupo, e del gigantesco alce irlandese. Tuttavia, con la scomparsa di questi animali dall'Irlanda e l'eccessiva esportazione di levrieri, la razza si è quasi estinta. Salute. Come altre razze con seni grandi, i Wolfound possono sperimentare gonfiore, una condizione improvvisa e pericolosa per la vita. Gli allevatori responsabili esamineranno il loro allevamento per condizioni di salute e condizioni genetiche come polmonite, malattie cardiache, alcuni tipi di cancro e chirurgia di BIPAS al fegato. Si raccomanda un esame annuale, preferibilmente da un veterinario esperto di levrieri, che dovrebbe includere un ECG. Ampie informazioni sulla salute, sono disponibili sui siti web dell'AK Cibre e Club, dell'americani Irish Wolfound Club, e della sua organizzazione sanitaria Sorella. Prezzo e come acquistare correttamente. Prezzi per cuccioli del morso irlandese nobile. Dovrai pagare da 1000 dollari usa per bambino, a seconda dell'allevatore. L'opzione ideale sarebbe acquistare un cucciolo dopo che ha raggiunto i tre mesi di età. Fino a tre mesi, i bambini dovrebbero essere vicini alla materia, poiché sono ancora troppo deboli. Una separazione anticipata sarà molto stressante per loro, può persino portare alla morte. Il colore del pelo del cane non ne altera il valore. Linea di fondo. Una razza di cane la cui specializzazione è piuttosto difficile da determinare. I loro antenati venivano usati per la caccia alla grossa selvaggina, mentre i moderni levrieri sono per lo più compagni e animali domestici. Questi cani enormi, i più alti di tutti, hanno un carattere sorprendentemente gentile, adorano i bambini e salutano gli estranei con gioia non mascherata. Sfortunatamente, sono soggetti a varie malattie.